Siamo a Orciano, la nuova sede del nuovo comune di Terre Roveresche. Siamo in compagnia del nuovo e primo sindaco del nuovo comune Terre Roveresche, già ex sindaco di San Giorgio di Pesaro, eletto in questa ultima tornata amministrativa Antonio Sebastianelli, un comune nato dalla fusione partendo da est ad ovest di Barchi, Orciano, San Giorgio e Piaggia. Un comune che comunque parte da lontano dalla fusione dei servizi. Parte dal 2003 quando questi comuni diedero vita a quella che fu, perché oggi è stata chiusa, non c'è più l'unione Roveresche, dove in 13 anni ha messo insieme la totalità dei servizi che i comuni erano ai cittadini. Quindi questo è un prosiglio di quello che era l'unione e poi sapete a novembre dell'anno scorso è diventata fusione, quindi Terre Roveresche. E oggi, anzi l'altro giorno, l'11 di giugno, ha scelto il primo sindaco, il sottoscritto, dal quale ringrazio tutti i cittadini e tutta questa nuova comunità che ci ha dato una così significativa fiducia per poter portare avanti e iniziare questo nuovo progetto. Il nuovo progetto che propone grandi sfide, alcune tra tutti le strade con la frana di Orciano in primis, oppure i probabili campanilismi che potrebbero sorgere. Esatto, le sfide che dobbiamo portare avanti sono tante, tu ricordavi le strade e ovviamente la frana di via Kennedy ormai ha il suo decorso, quindi a breve. Sapete tutti che la provincia è già con la gara individuato il soggetto che dovrà eseguire i lavori, quindi di fatto io penso in un tempo molto breve, ancora quando ho preso visione del dossier, lo farò questa sera. E quindi lì avrò anche una visione più chiara di quelle che sono le tempistiche per l'inizio dei lavori. Speriamo comunque che il secondo compleanno della frana non si celebri, perché è ottobre, quindi spero vivamente che per prima di ottobre i lavori siano conclusi. Penso in tempi brevi. In tempi brevi, tutta la parte amministrativa burocratica è stata eseguita ed espletata, quindi di fatto oggi dobbiamo solo dare il via, la provincia deve dare il via dei lavori, perché quella è la strada che è stata seguita. Quindi le strade, cambiare il modo in cui si fa manutenzione delle strade comunali, tante volte l'ho detto, noi abbiamo 120 km di strade bianche e 120 km di strade asfaltate, comunali, quindi è un patrimonio abbastanza importante e quindi dobbiamo andare avanti in quella direzione e cambiare il modo in cui salvaguardiamo e facciamo manutenzione delle strade. E poi l'altra sfida importante è quella di cercare di evitare, o meglio ancora, alleviare quelli che sono i campanili, perché di fatto è stata fatta la fusione, è vero, ma ancora servirà forse una generazione per far sì che veramente i campanili siano scomparsi e che i nostri nuovi ragazzi si chiamino veramente cittadini di terra rogeresca. Però siamo fiduciosi perché appunto alle spalle abbiamo questo percorso di 13 anni, quindi un percorso molto lungo, che ci ha permesso comunque sia di portare le cittadinanze verso un obiettivo e un sentire comune. Come verrà ristrutturato il comune, nel senso ci saranno presidi, è già stato ristrutturato in ogni ex comune, oppure c'è, rimane solo il comune a Dorciano, mentre tutto fa riferimento a qua? No, già una parte è stata già fatta la riorganizzazione degli uffici, infatti lungo il territorio abbiamo dislocato l'ufficio tecnico a Piaggia, l'ufficio urbanistico a Barchi, la parte legata ai servizi anagrafe, quindi demografici ed elettorali a San Giorgio, insieme a Vigili, e gli altri servizi a Dorciano. Quello che non è attivato e noi dovremo attivare nel breve tempo possibile è questo sportello che noi chiamiamo polifunzionale, dove effettivamente nel territorio vengono forniti quei servizi che sono, diciamo, fruibili e necessari tutti i giorni, quindi pensate al certificato, la legalizzazione della foto e altri ritiro dei sacchetti della raccolta differenziata e quantità. Quindi quello sarà una delle prime cose da affrontare in questi primi cento giorni. Se abbiamo parlato di problematiche parliamo anche di potenzialità che questo nuovo comune dà. Teniamo conto che nei quattro ex comuni esiste ogni paese a un suo museo, quindi queste sono potenzialità enormi per uno sviluppo del turismo. Esatto, sviluppo del turismo e anche sviluppo della cultura dei nostri territori perché secondo me per dare veramente uno slancio importante dobbiamo anche prendere consapevolezza di quello che abbiamo che molte volte manca anche proprio nei cittadini, anche nel sottoscritto. E quindi l'idea è quella di partire proprio dalle scuole con dei progetti ad hoc in cui viene insegnato ai nostri ragazzi quello che è il patrimonio artistico, culturale e anche monumentale presente sui territori. Perché io penso che molti dei nostri ragazzi non sanno neanche la presenza della torre malattistiana qui a Dociano, che il castello di Barchi è stato fatto da Filippo Terzi, grande architetto, che è addirittura un'armatura di un signore di Barchi esposta al Museo Armitage di San Pietroburgo e via di seguito. Quindi chiaramente per poter andare veramente lontani in questo percorso dobbiamo anche prendere consapevolezza e costruire le fondamente. Le facciamo insieme alla scuola con un progetto ad hoc e soprattutto anche creando quelle che saranno delle mini guide da utilizzare sul territorio, andando a coinvolgere i ragazzi delle nostre scuole, studenti universitari, eccetera. Quindi è un modo perché il filo conduttore di quello che vuole essere questa nuova compagina amministrativa che si presenta a governare Terre Roverische è quello di cercare di coinvolgere il più possibile la comunità che deve piano piano riappropriarsi e gestire le proprie risorse per soddisfare i propri bisogni. Quindi questa è l'idea e quindi bisogna partire da quello che noi abbiamo. L'ultima cosa da aggiungere è grazie. Grazie a chi ci ha dato così tanta grande fiducia e quindi dobbiamo cercare senza se e senza ma di ripagarla. Grazie. Grazie ancora ad Antonio Sebastianelli e ancora auguri. Grazie.